C'era bisogno di dare un segnale chiaro ed immediato dopo l'inopinata sconfitta interna contro la Cenerentola Cassino. Detto, fatto, i Lions reagiscono in fretta e si aggiudicano in trasferta. Il derby contro Nardò finisce 71-66 e il dodicesimo successo stagionale il quinto con la valigia da viaggio in 18 incontri giocati dai biseliesi che consolidano la quarta posizione solitaria nel campionato di Serie B e negano l'aggancio in classifica ai neretini scivolati a meno 4 dagli uomini di coach Gigi Marinelli. Partenza lanciata per gli ospiti che esordiscono con un 10-4 di parziale e due triple di Drigo, ma i padroni di casa riescono a rispondere prontamente e pareggiano i conti alla prima interruzione. E equilibrio a quota 17, i Lions arrivano avanti di due lunghezze all'intervallo lungo, poi provano a dare uno strappo con il 7-0 di inizio terzo quarto. Nardò risale sino almeno uno, ma poi si scatenano i Lions che toccano il più 16 e chiudono la terza frazione avanti di 14 lunghezze. Gara finita, tutt'altro, perché i padroni di casa non alzano bandiera bianca, recuperano sino almeno 7 con due minuti da giocare, ma gli uomini di Marinelli gestiscono bene le ultime energie mentali e fisiche, riuscendo a portare a casa il prezioso successo. Miglior realizzatore per i viaggianti marini con 22 punti, in doppia cifra anche Drigo con 19. L'acuto di Nardò però è già stato archiviato, domani infatti i Lions torneranno in campo per il turno infrasettimanale della quarta di ritorno. Non una partita qualsiasi tra l'altro, ma il super derby in trasferta contro Ruvo, fischio d'inizio al palapoli di Molfetta previsto alle ore 20, obiettivo dichiarato. Bissare è successo casalingo dell'andata, il trittico di impegni in otto giorni, poi si concluderà per i bicegliesi domenica al Paladolmen contro Salerno.